Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video ragazzi Eh no un attimo Un attimo Fermi regia ferma Ferma tutto regia ferma tutto Ma Ma questo non è il mio canale Oh Questo non è il mio canale Ma che ci faccio qua Perché Lughe è Lughe 43 servizi Oggi mi trovo sul canale di Luke Perché lui è andato con Viviana A prendere i bambini E io mi sono approfittato Del computer vuoto quindi Mi sono filato E sono entrato nell'estheticraft Ragazzi io voglio fargli fare qualcosa Madonna c'è un enderman Voglio sistemargli un po' di cosucce Allora innanzitutto mangiamoci un bel parinozzo Allora andiamo nel piano superiore Andiamo nel piano superiore Perché so che lì c'è il letto Ragazzi so che lì c'è il letto Lo so eh Ok facciamo la nanna Ragazzi Oggi vorrei sistemare un po' di cosucce Che ha lasciato Luke Per esempio ho visto che all'entrata qua Laggiù in fondo Le scale non ci sono Quindi Allora facciamo una cosa Dove sta la legna qua in questo Madonna c'è un enderman Salve signore enderman Allora a me mi servirebbe Del Ce l'ha delle scale Ce l'ha delle scale Allora prendiamo le scale E andiamo a sistemare un po' di cose Ecco qua Eccoci qua Per esempio ragazzi guardate Ma cos'è sta roba Luke Ma che cos'è questa cosa Ma che cos'è Ma dai Luke Sistemiamo un po' di cose Allora mettiamo le scale Oh almeno possiamo Eh sperando che non c'è nessun altro Eh ok Sperando che non ci spawni qualcuno Ok oh almeno si può salire tranquillamente Tranquillamente Oh finalmente Un paio di scale normali Sì che bello Sì Ok Allora Poi cosa possiamo sistemare Si sono dovuto scendere in caverna Perché mi sono Ho notato Ho notato Che Luke Che Luke Non ha messo la legna Intorno alle entrate Delle caverne Dei conniculi Eh porca boia Signor Luke Ma che è sta crafting table qua Dai Lu Lu Ok togliamo sta crafting table La mettiamo La mettiamo qua Boh All'entrata Potrebbe andar bene Poi Poi mi serve Della terra Per richiudere il buco E poi mi serve Della cobblestone Adesso faccio Luke Adesso faccio Luke La porta Sta il cane A casa sono da solo Ok Allora Mettiamo Facciamo le entrate Delle caverne Oh Guardate quanto è più carino Ma dai Lu Cos'è sta roba Oh my god Ah beh ok No 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 Perfetto Allora facciamo così Poi mi serve Cobblestone Togliamo quella torcia Che non mi Non mi piace Lì E mettiamoci La legna Proprio qua Bam 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 E berebem Eccola qua Un'altra entrata Poi qua Ne facciamo un'altra Adesso gli facciamo Diverse Entrate Delle caverne Almeno lui Si può gestire Tutto il ciò Oh Allora Mi serve la legna Mi serve la legna Quindi andiamo a prendere Subito la legna Ragazzi Intanto che taglio La legna Vi ricordo che oggi Saremo in live Quindi troverete Il link qua sotto In descrizione Mi raccomando Veniteci a trovare Che probabilmente Andremo con H1 Z1 Oppure andremo anche Con minecraft Potremmo andare Anche con Counter Strike Global Offensive Vedremo Vedremo cosa fare In live Casomai ragazzi Scrivetemi qua sotto Nei commenti Altri giochi Da portare In live Allora Aspettate un attimo E scrivetemi pure Naturalmente Se vi piace Che ogni tanto Entri nel Nel mondo Di Luke A fare un tantino Di cosucce Qua gli alberi in metà Luke Non si lasciano Gli alberi in metà Porca boia Luke Oh Aspetta Che me alzo Con la terra E piamo La legna Ah Questo qui è L'albero Quello grosso Lu Lu Vuoi una mela Oh Qua ci sono altri Alberelli Che io Gli ripianto Allora togliamo Allora togliamo un attimo La terra E prendiamoci Sapling Oh Io le ripianto Almeno lui C'ha un po' di legna Da raccogliere Dopo Oh Qui Qui E basta E niente Ritorniamoci in caverna Va Eccoci qua ragazzi In caverna Allora Vediamo un po' Subito 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 Eravamo rimasti qua Allora Ripia Mettiamo Eh si vabbò Cippe Già comincia a sbagliare i blocchi Non se fa Non se fa Ci abbiamo i cunicuni Che arrivano fino a qua Allora Mettiamogli pure queste qui Almeno lui sa dove andare a scavare Più tardi Allora Prendiamo anche la cobblestone Boom boom La chiudiamo tutta Almeno Bellissimo Così 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 Perfetto Facciamo pure L'ultima E Possiamo fare anche dall'altra parte No Che ne dite Qua invece ragazzi Bisogna scavare Allora Togliamo un attimo Sta torcia La miseria ragazzi Che bush de kill Abbiamo trovato La redstone Allora Piazziamo una torcia Piazziamo una torcia lì Poi E scaviamo Il tutto ciò qua Oh Dopo gli andiamo a raccogliere Un po' pure un po' di materiali Almeno si porta avanti Un po' con la serie Porca miseria Che c'ho sempre A corta di ferro E' sempre a corta di ferro Mi raccomando ragazzi Ricordatevi di scavare Sempre con shift Che almeno Consumate meno Fame Ok Sono arrivato In fondo Ok Allora Ci abbiamo 32 pezzi Di legna Allora Per prima cosa Raccolgo Sta redstone Che adesso Mi lancia potuta Redstone mia Grazie Sperando Sperando che non ci sia La lava sotto No Non c'è Per fortuna Perché so So che queste caverne Questi connicoli Ragazzi Sono pieni Pieni di Lava Quindi dobbiamo star Molto ma molto Attenti Allora Togliamo le scale Le scale E rimpiazziamo Con la cobblestone Oh Sì Certo Per Beh bravo Cip Bravo 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 Sì Dov'è l'entrata qua Ma non c'è nessuna entrata E Sì L'entrata doveva essere un po' più là Questa doveva essere l'entrata Non quella là Però abbiamo trovato Altra redstone E siamo pieni Siamo pieni Allora Vediamo un po' Qua dentro cosa ci ha messo La stone Ci metto pure questa De stone Ok E possiamo raccogliere La redstone Che abbiamo Raccolto Ok Mettiamo Prendiamo la cobblestone Tappiamo tutto Qua togliamo la red La torcia E lo chiudiamo Scusate ragazzi Se è buio dentro Adesso Adesso un attimo Scappo fuori Scappo fuori Ok E mettiamo la torcia qua E chiudiamo qua Oh Perché lui Non gli piace i buchi Ok Chiudiamo pure qua E diciamogli Che qua Deve continuare Oh Finalmente Un bel passaggio Bello e figo Poi 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 Allora Dobbiamo rientrare Di uno Ok Quindi qua Questo 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 E questo Vanno via Ma perché io sbaglio Sempre a piazza i blocchi Un'altra entrata Un'altra entrata Eccala Eccala la lava Ehm Non andare oltre questo Lue Lu Se stai guardando questo video Non andare dopo di quella Occhio Ti ho messo la torcia proprio così Almeno la vedi Palincio in su Quindi sicuramente Pure in quest'altra Ci sarà la lava Ma porca boia Sta lava di merda Che ha rotto i zebedei Però eh Rompe leggermente I zebedei Vai Allora Ma perdonami Lu Ma tu hai trovato Un mondo di redstone Hai trovato un mondo di redstone Redstone C'è solo redstone C'è il cane che miagula Ragazzi Sto notando che fuori È notte Quindi ritorniamo giù E dormiamo nel lettino qua Va Che dovrebbe esserci un lettino Dove dormivo io In live Eccolo qua Dormiamo qua Che è meglio Buongiorno 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 Via 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 Mamma ronna Lucarman Ue ue C'è qualcun altro Ehi Non senti passi Creeper C'è il creeper C'è il creeper Via via creeper Non ti azzardare a venire Cane Zitto Zitto cane Zitto Mori Morto Perfetto Siamo salvi Siamo salvi Siamo salvi Ok Cane zitto Ragazzi Ricordatevi che Quando dovete Mangiare le bistecche Marce Dovete stare fermi Comunque Ragazzi Noi abbiamo fatto Abbiamo aggiustato Un paio di cose Sulla mappa di Luke Scrivetemi qua sotto Nei commenti Se volete altri video Che aggiusto Un paio di cose Luke ancora Deve ancora arrivare Speriamo che arrivi presto Un bacione Un abbraccio Da Luke Da Cipetuto Ciao a tutti Vi aspetto in live